E salve a tutti ragazzi dal vostro mic di playing Ben ritrovati su Sniper Elite 3 Continuiamo la campagna con la seconda mission E continuo a partire, vai Gaberun Eccoci qua Beh il video l'abbiamo visto nella finale della prima missione Allora, vediamo un attimino Prendiamo la nostra fidatissima pistoletta silenziata Anzi no, però potrei anche ucciderlo così Che sta qua? Vabbè dai, ci penso io Ciao Mappa Trova informazioni sulla base Ok Sembra questo l'adatto per usare il binocolo Usiamo il binomero Allora Ecco qui, questo evidenziamo quanta gente ci sta qui Eccolo un altro Poi voi, guardate, eccolo Solo questi? Possibile Oh, questo? Non l'avevo visto? Ma solo tre mi sembrano un po' pochetti, eh Me ne sfugge qualcun altro? Ciccia Andiamo così, vai Calma Però possiamo fare anche così La possibilità che noi si trovino si basa sul rumore E' questo Il primo colpo L'abbè Taglie Forse prima che si avvicinano Tutte cose scontate Bene Vabbè Vabbè Ma noi infiliamo Una pallottola nel Chiriano E' andato Allora Io qua Non so voi Ma non vedo nessuno Quindi Perseviamo Nessuno Abbiamo qualcosina Ho l'impressione che questa missione sarà un po' lunghetta, ragazzi Con cautela Quello sta lì, ma Direi che può stare anche lì Lì c'è quello che Passiamo di qua Va Questo pure lo possiamo fare A rusto Lì al volo Eh però c'è quello lì Se mi becca Devo fare il rambo Può darsi di no però, eh Oh No Eccolo E vai Olè E vediamo Nota di intelligence Incarichi degli ufficiali Come nei vostri ordini Mi leggo una mappa degli incarichi assegnati agli ufficiali di Gabelon Spero che sarà utile a voi e al generale Valen Salvatore Ok Questo ci può fare sempre utile Ecco qui Bene Quanti sono? 3 Elimina E per 15 ufficiali Vabbè Niente di più semplice Quindi Oh Ma questo Se non lo vuoi Lo uccidiamo con la visionetta? Non è sì Così Non c'è che che cazzo Bene Qui sopra Presumo non ci sia nessuno E spero Qui ci siamo Ok 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 Oh Chi cazzo è? Ah Vedi? Eh cazzo Qua c'è qualcuno Andato Ah no Oh merda Ma che cacchio Eh non posso manco sparare col cucilazzo Se no Ah che coglioni Bisogna andare così sopra Mannaggia Dove cazzo sei? Siamo fatto venire fino a qua Non potevi morire prima Eh? Maggi a te Allora Torniamo giù Che cacchio Dai che c'erano altri 3 da killare E andiamo Andiamo meglio la mappa Direi di Sì Direi di fare il giro Passiamo di qua Oh cazzo E questo? Che cazzo è? Uff Mamma mia Ora hanno becchiato Quelli di altri? Buono No Mazza col binocolo Li ho presi tutti eh E le pare Che qua ce ne sono mille Mille miliardi Oh E' quello là Allora io vado un attimo Allora Il problema è questo E se io killo questo Quello si è girato e non mi vede Buono 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 Olè Al volo Al volo Recuperiamo dopo Fammi vedere qui che cosa c'è Una pistolina Il generale è una domanda Appena la morte A tal proposito Ha ordinato il congedo immediato Sostenete Wolf Wolf Solo base del suo atteggiamento negativo La mancata esecuzione degli ordini Volterà al mio congedo Ancora peggio Alla morte della famiglia Quando Wolf Arriverà Eseguerà gli ordini Non mi renderò più responsabile Della morte dei miei Ma chi era questo? Bene Vediamo se riesco a killarlo questo Ti parlo che c'è tutti questi colpi Tagliate fermi? Poi quando vante piante Oh cazzo Oh Ma porca Ignota Mazza Tutto sto tempo Tre colpi Oh Vedi? Siamo qui dai Ragazzi non è facile È tutto Quello Ragazzo Vedi andate Vaffanculo Questo Vaffanculo Quello perché sta là? Ma Non ho capito se Eh qua di gente ce ne sta parecchia Comunque Quello sta ancora lì Ah vabbè questo si stentizza facile Alla buff Vai nell'orecchia Bene Adesso lo prendo io Inspezioniamolo Buono Questo che cazzo è Tira calci o spara piccole per coprire i tuoi rumori Eh ma Eh ma Eh I calci non so come si tirano ancora Però Vabbè il secondo si avvicina Oh Ma va Vaffanculo Mannaggia quel porcun Ragazzuoli Me ne ho beccato Cazzo sto finendo la pistoletta Sono un po' a rischio eh Ah è quello Cazzo di puta Eccolo Lo stellato Ma che poi questi si mimetizzano Ma non ho capito se Dov'è? Ah sa qua dentro Eh vabbè Cazzo così Così non vale eh Devi mettere di spalle Frate Se no non ti uccido Uccido così Ole Buono Perfusiamo Mi fa piacere che Il lacchè Di Valen Si è andato a tormentare Altri vanposti Tutte le volte che lo vedo Perdiamo un uomo In nome di stupidi ordini Lui non sta a Berlino Bene 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 Proseguiamo Un po' di robetta Eh Ok Io dovrei andare lì Però 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 Ad arrivarci Poi ce ne stanno Due a arrivare Uno dorme Facciamo così Questo lo uccidiamo Tipo così Questo Nel sonno Ottimo E poi ce sta anche Quello sul porticciolo Lì Anzi Vediamo se riesco a beccare Qualche munizione Per Ah vedi Ne ho dieci adesso Grande Kit medico pure Perfetto Ecco due Ci diamo anche Questo sul porticciolo Quelle lezioni di morte Non gli servono più Ah Allora Andiamo qui Ma Può notare Il nostro soldato Vediamo No Troppo Eh Troppo Se potevano usare Ok C'è Spuglier Balta Per Iniziarsi Bene Ma E' salvabile La missione Oh Vedi Però Non la salvo Sprezzante Del pericolo A parte che non vedo Nessuno Nooo Non si può passare Mannaggia Devo fare il giro Capirai Vediamo se stanno 3000 Qui Devo mettermi prono Per passare di lì Che facciamo Non si può passare Mannaggia Che sfiga Vabbè ragazzi Questa è una missione Che praticamente Non so se tutte le missioni Sono così Però L'approccio A questa missione È praticamente Tutto stealth Non so se Approcciandola in maniera diversa Alla Rambo Mi scappano tutti I generali qua Che dobbiamo Killare E prendere information No Eh capito Meglio nascondere Questi corpi Eh davanti Non lo faceva di dietro Oh beh Eeeh Cioè Stealth Sì Cioè Vi dico la verità Dai Fare il timido Dove È questo Vi dico la verità Approcciandola in maniera Stealth È molto lenta È un po' Noiosetta Ma che cazzo Ma che è Che è Pietrificato il tizio Bello Assurdo Qui Rafica ad alti livelli Eh Per 2014 Stiamo ancora così Potrei piazzare qualche trappola Non si sa mai No Niente trappola Andiamo dai Stavo dicendo Perché poi Vedi Vedo quei personaggi Che gli pugnali Gli pugnali Ne spalle E rimangono Così All'impiedi Morti All'impiedi Come una statua Vabbè Allora Qui vedo Varie minacce Amazza Nero 3 Però Quello Sta a dormire Ok Non si è porto Di nulla Perfetto Ah 10 C'è un altro No Ecco Fallo venire Fallo venire Fallo venire Qui ma Mamma mia Era quasi rosso Rischio Allora Io direi Di Killare Prima Il general Che si è fuggito Piazza Poi Chiudiamo Questo Poi Chiudiamo Orco 2 Oh Non è morto Non è morto Ma che cazzo Robo Orca Vacca Fammi curare Un attimo No 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 Non ho capito Perché E' stata Non moriva E poi a parte Ce ne stava più di uno Pensavo che erano due Ma Questo poi era bello tosto Generale Maggiore Inviato al generale Minore No Valen E tutto da farato Uno dei tanti progetti Folli dei tedeschi Bene Bene Ce ne manca Uno Che sta inculato qui Sul monte Ok 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 Mi vorrei curare Ma non mi ricordo più Come si fa Nel senso Non mi ricordo più il tasto per furarli Questo è strano Eh No No Vabbè Non ci curiamo Qua Qua Centame sette metri Vogliamo Qua c'è qualcuno Non è guarda Non è nessuno Chi è il terzo Ah Uno sta lì Uno sta lì Vediamo un attimo Prima Non si può usare Il figlio da cecchino Sennò fa un casino Della madonna Capirai Ce ne sta un altro lì Però non ci vede Ah Arparo che gira Però ce ne sbattiamo I piperoni E andiamo avanti 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 Lì non si passa Scusami Ma sta dormendo Non lo vedevo Voi schiavi Per tirare così Ok Qui C'è qualcuno? No Non lo vedevo Ah questo si sposta Si sposta Ma se ne sono tanti Lì Allora Siccome Quello mi ha dato Un po' di filo Da torcere Io presumo che anche questo Darà un po' di filo Allorzio Quindi Ma scusa ma questo che sta a fare? Fa il giro? Ma se fa il giro lo aspettiamo No Che cazzo fa? Vai dentro? Svolgete le vostre mansioni Ah Se quello sta lì Uuuuh Vediamo Bravo Che è qua? Bravo 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 Vai dritto eh Mi raccomando Ma vaffanculo 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 No Uuuu Ultimo salvataggio Dov'è? Dov'è? Va bene Ci hanno dato bene Ho fatto veramente una gran c***a